una categoria che vive di grandi eventi di successo come street food e non solo, come si fa ad andare avanti visto che comunque non ci sono entrate? Il problema è proprio quello, non ci sono entrate, i danni sono ingenti perché qui ovviamente la salute va alla prima cosa ma il problema è che se lo Stato non prevede nessun sostegno per tutte le categorie perché qualcuna va avanti, qualcuna riesce ad avere, che poco che sia comunque è un segno che quei 600 Euro, possiamo contare un po' tutti su una sospensione di un mutuo, sul ritardo per pagare le tasse ma quella è poca roba perché se non si lavora, non si incassa c'è tante spese a cui far fronte anche al titolo personale, al titolo di famiglie per cui se non, ora la butto là in maniera molto cruda ma così è la realtà se non ci ammazza il coronavirus si rischia che molte attività rimangano a gambe all'aria quando poi l'allerta sarà finita tenuto conto anche che questo è un settore, quello di organizzazione eventi e i partecipanti, quindi gli ambulanti e una volta che l'allerta è finita se si potesse anche riniziare a fare gli eventi niente sarà più come prima perché anche la psicosi collettiva quella che c'è stata inizialmente che c'è tuttora, ci sarà ancora e sarà difficile ritornare alle grandi affluenze negli eventi, quindi agli assembramenti anche minimi che possano essere negli eventi